Anche da Invorio del Vergante sono andati in Sicilia per spengere gli incendi. Nella provincia di Enna c'è stato un gruppo, tra cui Luigi Vercelli, che si sono adoperati. Com'era la situazione là? La situazione quando siamo arrivati noi era abbastanza critica, perché gli incendi si erano sviluppati più grossi prima che arrivassimo noi. Poi noi abbiamo fatto più che altro opera di pattugliamento e spegnimento immediato dei focolai che si sviluppavano affiancati alle organizzazioni del luogo. Negli ultimi giorni c'erano di nuovo dei grossi focolai e dei grossi incendi, però sono stati tutti contenuti abbastanza facilmente. Dal punto di vista logistico come vi siete mossi Paolo Cambieri per andare in Sicilia? Stavolta la colonna mobile è veramente partita con la massima urgenza, perché era una situazione d'emergenza e quindi raccolti gli uomini che avevano già dato disponibilità abbiamo formato quella che si chiama appunto una colonna mobile, ovvero le macchine si sono messe una dietro l'altro con un'officina mobile, con un furgone per trasporto persone e con tre mezzi pick-up dotati di un modulo IB per fare proprio l'attività di antincendio boschivo. È stato un viaggio abbastanza impegnativo perché abbiamo attraversato tutta l'Italia. Ha copiuto 40 anni l'IB di Invorio, l'associazione di antincendi boschivi, come potete vedere dalle immagini, tanti sono i mezzi, ma soprattutto l'operato in quello che è il nostro territorio e abbiamo sentito anche che addirittura dei volontari sono andati anche in Sicilia. Com'è stata l'attività in questo periodo? L'attività è iniziata quest'anno con alcuni incendi che hanno interessato da vicino, per cui siamo andati in supporto con i nostri volontari nelle località a confine. sono andati nel VCO in un incendio in questa primavera a Ornavasso e alcuni sono stati poi in Valle Cannobina. Oltre ai Visi del Fuoco anche voi vi occupate di calabroni? Sì, abbiamo creato già da qualche anno un gruppo di volontari che ha seguito dei corsi di formazione e interveniamo su richiesta dei privati per togliere questi nidi quando si fanno pericolosi per l'incolumità dei cittadini. Grazie. Grazie.